giojo all star battle ormai è un videogioco che piace da morire qui al nostro torneo videogames party abbiamo il nostro admin che ci spiega prima di tutto da dove arriva questo meraviglioso stick e poi ci spiega un po come è andato il torneo lo stick se lo regala gentilmente playasia.com il torneo è stato spettacolare ma adesso andiamo a vedere chi ha vinto terza posizione lo conosciamo andrea polazzi e andrea dimmi un po il torneo questa volta il livello era veramente troppo alto per me lo devo ammettere ti accontenti quindi è contento sì più di così non potevo fare oggi non potevi fare oggi perché ti manca ad andare a casa ed allenarti quindi è quello che farai quello che farò nel prossimo torneo se va bene miniscato bravissimo andiamo a conoscere il secondo classificato e inveti in seconda posizione troviamo andrea ho visto la finale ed è stata spettacolare dice un po comandato secondo te è stato un via vai diciamo praticamente vincevo io diceva lui dicevo io vinceva lui lui ha resettato la finale e dicevo io vinceva alla fine ha vinto ha vinto anche meritatamente però si è fatto molto valere anche tu e ora andiamo a conoscere il primo classificato allora oggi non era l'admin e ovviamente quando fa l'admin non può giocare e infatti guardiamolo questa meravigliosa coppa e questo stupendo stick fallo vedere bene perché ce l'hai fatta è tuo presentati ciao sabri ciao raga sono mazzin e oggi sono riuscito a partecipare a vending sparti di solito faccio l'admin in questo bellissimo gruppo oggi ho giocato è stato un torneo bellissimo sensazionale e ho vinto e quando uno è forte forte che altro c'è da dire sì in effetti me la cavo però è stata tesa devo dire che l'ho ci secondo classificato ma davvero definito infatti che stavi perdendo stavo per perdere parole forti però hai fatto vedere chi sei ma ero in loser ho dovuto resettare sono riuscito a vincere sono molto contento sei stato bravissimo sicuramente te lo meriti venite a batterlo al prossimo torneo videogames parti